Ciao a tutti! Tempo fa un amico mi ha chiesto come mai ho le foglie delle mie piantine bucate e come mai sembra che la cosa non mi non mi crei problemi. Allora, appunto io poi gli ho risposto che ci sono ci sono buchi e buchi nel senso adesso vi faccio vedere questa qua per esempio vedete ci sono fori di questo tipo di questo tipo che sono praticamente simili qua non so se si vede ecco uno anche qui e poi questo praticamente quasi tutte le mie piantine hanno questo problema vedete qua altre qui c'è un po un casino perché ormai col lavoro non riesco più a a seguirle come meriterebbero però siamo anche alla fine della stagione questo quindi va bene anche così ho raccolto veramente tantissimo e sono soddisfatto qua qua ecco allora io non mi preoccupo di queste di questi buchi di questo tipo di buchi per una semplicissima ragione se vi ricordate tempo fa quest'estate ho fatto un video sulla grandinata che c'è stata qui praticamente queste qui hanno subito tutte una grandinata pur avendole le piante sotto questo piccolo tetto che è il balcone della casa pur avendole qui la grandina arrivava da là e c'era un vento fortissimo praticamente grandinava quasi orizzontalmente e quindi le prime piante che erano qui qui davanti sono state massacrate come mitragliate come se li avessero sparato e alcune addirittura le avevo salvate in estremi ecco tipo quella lì quella lì si era spezzata in due completamente e allora la storia di questa qua è un po' è un po' una storia triste allora praticamente questa qui io l'anno scorso già provai a crescerla e non mi ricordo che come si chiama questa qui è la smooth white me la diede un amico mi diede i semi e l'anno scorso non riuscì a crescerla perché avevo l'orto e nell'orto ho avuto diversi problemi attacchi di diversi diversi insetti eccetera e poi anche lì il brutto tempo il problema dell'orto è che ce l'hai poi a cielo aperto quindi quando arriva il brutto tempo lì c'è poco niente da fare e quindi non riuscì a coltivarla quest'anno ce l'ho fatta però è arrivata la grandine e me l'ha quasi uccisa ce l'ha fatta a riprendersi aveva fatto diversi peperoncini che poi sono stati attaccati tutti dalle cimici ed erano tutti da buttare li avevo tenuti per fare un video per farvi vedere che cosa succede quando arriva la cimice però non lo so sono andati persi è andata così comunque niente la cimice ha un ago davanti come una proboscite come le zanzare praticamente lei arriva e brucia lei brucia e buca i peperoncini e poi succhia succhia la linfa eccetera però inietta anche qualcosa probabilmente la sua saliva o qualcosa che che va a creare una specie di cancrena in quella zona in cui buca il fatto è che sta qui non è che si accontenta dice ok ci sono tipo qua dieci peperoncini ne piglio uno e me lo piano piano lo buco tutto me lo mangio tutto no buca uno poi va sull'altro buca l'altro poi va sull'altro buca l'altro e così te li rovina tutti ecco quello lì aveva fatto ci avevo fatto a tirar su 5 peperoncini me li ha me li ha seccati va bene quindi vuol dire che io sono destinato a non assaggiare mai quel peperoncino lì va bene ok dunque quindi la maggior parte delle foglie rovinate che ho io sulle mie piante sono rovinate a causa della grandine non è un problema perché come potete vedere le foglie pur avendola subita quest'estate la grandine sono lì stanno bene c'è il buco ok ma alla fine le foglie sono come ho già spiegato un pannello solare quindi loro stanno lì creano la loro fotosintesi e anche se è bucata tagliata spezzata eccetera ci sarà sempre una parte che la fotosintesi continua a farla e quindi va bene lasciatele se sono brutte se non vi piacciono qui stiamo parlando di piante in casa logicamente c'è una pianta con la foglia che ha la punta rotta via così non vi piace toglietela se ci sono tante foglie non è un problema la pianta non è che ne soffre la togliete e la pianta è più bella da vedere in questo caso non è che ho un grandissimo interesse nel bello da vedere anche se c'è ma più che altro è che mi produca i peperoncini quindi più foglie ci sono più fotosintesi c'è e meglio è più energia e più più zuccheri per la pianta per continuare a crescere bene eccetera adesso vi faccio vedere una foglia che ho visto prima invece dove bisogna già preoccuparsi un po' di più quando si formano ecco dei buchi tipo questo che poi forma come una specie di cancrena intorno ecco questo qui molto probabilmente è stato attaccato da un bruco da da un qualche insetto comunque non ci sono problemi anche qui perché come la grandine ok c'è il buco l'insetto non c'è più quindi non andrà avanti a far danni e quindi non ci sono problemi il problema è se l'insetto c'è ancora cioè voi arrivate una mattina vi trovate diverse foglie mangiucchiate allora lì guardate attentamente e vi consiglio di non guardare semplicemente sopra la foglia perché molto probabilmente sopra non vedete niente a loro piace nascondersi sotto la foglia quasi tutti i parassiti delle piante si nascondono sotto le foglie e quindi anche anche le cimici quando sono piccole le uova adesso io qua non ho da farvi vedere ma ho scattato delle foto e sono quasi anche belle da vedere le uova delle cimici le fanno sotto le foglie si attaccano sotto e sono tantissime palline un po' come le uova di pesce una attaccata all'altra e stanno sotto le foglie quindi se voi iniziate a vedere dei fori strani circolari tipo questo andate a vedere sotto la foglia se c'è qualcosa se non c'è niente non ci sono problemi poi ci sono le malattie ci sono malattie fungine virali delle foglie e allora lì dopo iniziano i problemi perché lì se avete una pianta come in questo caso abbiamo una tabasco qui abbiamo un'altra pianta cos'è? una venezuelan tiger peperoncino che sto aspettando che matura ecco vedete che sono praticamente attaccate assieme si toccano se la mia tabasco è ammalata ha una virosi gliel'attacca pure a questa quindi nel caso in cui vedete una pianta con dei con dei fori bruciacchiati sulle foglie adesso io in questo momento mi dispiace non ho un esempio da farvi vedere ma all'inizio dell'anno ce l'avevo infatti io avevo separato queste due o tre piante da tutte le altre e poi si sono riprese da sole non ho dovuto fare niente si sono riprese da sole allora ho potuto rimetterle insieme alle altre comunque ecco fate questo lavoro se avete dei dubbi separatele dalle altre piante così andate sul sicuro ecco e da vedere sono come è come questa qua però in questo caso non è niente di grave però da vedere sono delle cose così e ci sono diverse malattie delle foglie di questo tipo poi magari più in là se vi interessa farò un video più approfondito proprio solo sulle malattie lì devo andare a prendere il libro e magari recupero delle foto e faccio un video un po' serio un po' in ordine su su tutte le malattie delle foglie questo lo potremmo fare verso la primavera così se se iniziamo insieme a coltivare una pianta che vi farò vedere video dopo video partendo dal seme fino alla nostra bella pianta cresciuta ai nostri peperoncini e lì ci sarà il momento in cui il momento più adatto per fare un video su sulle malattie delle foglie comunque ecco nel caso in cui vedete una cosa del genere e avete dei dubbi ci sono due soluzioni una è anzi diciamo una soluzione è quella di spostare la pianta da tutte le altre e il secondo passo da fare è togliere la foglia e portarla da un esperto andate in un vivaio gliela fate vedere e gli dite secondo lei questa qui è una malattia che tipo di malattia è cosa posso fare allontano le piante poi gli dovete spiegare che voi coltivate peperoncini che volete mangiarli non che vi dà un qualche prodotto da spruzzare su che poi rende avvelena la vostra pianta così che non potete mangiarci i peperoncini perché anche questo è importante quando voi andate a comprare delle piante di peperoncino da un vivaio deve esserci scritto che è commestibile perché tutti i peperoncini sono commestibili tutti solo che molti li vendono soltanto per la loro bellezza non per essere consumati e quindi buttano su dei prodotti chimici che poi vanno a compromettere il frutto io mi sembra che qualche anno fa ne mangiai un qualcuno così senza saperlo che aveva che era stato spruzzato molto probabilmente era stato spruzzato perché l'avevo comprato appunto da uno che vendeva fiori non gliene fregava niente questo qui di vendere i frutti vendeva i fiori io comprai il peperoncino che era se non sbaglio era questo qua questo qua è il figlio del figlio perché poi appunto io di quello là che ho comprato ho raccolto i miei frutti da cui tirai fuori i semi e ci coltivai le mie piantine logicamente adesso sono a posto una volta che voi tirate fuori i semi anche se i frutti sono compromessi perché sono stati spruzzati con chissà che prodotto prendete i vostri semi li piantate giù e la pianta che viene su è pulita è mangiabile ecco in sé non vi succede niente al momento se mangiate un frutto che è stato spruzzato da chissà che prodotto però logicamente a lungo andare è un po' come il fumare al momento non vi succede niente poi dopo qualche anno chissà che succede ecco un'altra cosa vedete le mie piante come alcune come le sto tenendo malamente allora io sinceramente mi dispiace ma di questa qua non ho un grande interesse a portarla avanti e quindi sto visto che non ho moltissimo tempo ultimamente mi sto concentrando soltanto su quelle o cui nutro un certo tipo di interesse qua i frutti proprio non mi piacciono la pianta è bella ma i frutti non mi piacciono quindi non ho un interesse nel portarla avanti a me la pianta mi deve piacere ma deve essere anche buona se la pianta non mi piace come aspetto ma è buona io la porto avanti lo stesso per quel motivo perché i frutti sono buoni come questa qua questa qui una Goronong è il chinense che preferisco in assoluto come gusto sono quelli gialli non so se vi ricordate questo oltretutto è bellissimo è giallo e verde ha dei colori eccezionali sta maturando la pianta in sé è orrenda è bruttissima è tutta storpia però fa dei frutti buonissimi e io continuerò a coltivarla per questo motivo questa è stupenda questa è la Orozco è fantastica infatti adesso ho preso dei frutti belli maturi da cui toglierò i miei semini e l'anno prossimo continuerò a coltivarla e niente qua era un po' ecco un video riguardante le foglie però adesso vi sto facendo vedere anche un po' in che stato sono alcune mie piante questa qui è una delusione totale una lemon drop frutti bellissimi gialli stile proprio limoni quando sono ancora in fase di maturazione beh tipo questo sembra un limone però io l'ho mangiata ed era molto piccante questa qua non so perché è venuta su poco piccante molto probabilmente è un deve essere stato un incrocio deve essere che che si è ibridata con qualcosa e sono quasi per niente piccanti non mi piacciono quindi io questa non la porto avanti qua idem stessa cosa abbiamo la fish che non non mi dice niente a sta pianta a parte che sta qui era già questa qui era ammalata aveva qualcosa che non andava sta pianta non so cosa ma non si era sviluppata come doveva aveva dei problemi alle foglie non gli sto dando più acqua perché adesso io tra poco aspetto che secca poi la taglio su e la butto nel compostaggio e basta finita lì stessa cosa per questa mi dispiace perché in sé era bella ma non mi piaceva per niente questa è la sorella di quell'altra che vi ho fatto vedere porterò avanti invece i miei rocoto che sono buonissimi alcuni chinense adesso vi faccio vedere un'altra cosa che praticamente questi qui sono dei chinense questo qui è il questo qui è bellissimo questo qui è pimenta da dog colorazioni stupende peperoncino meno buono di un habanero per i miei gusti però buono comunque quindi lo bello forte forse un po' più forte di un habanero io lo coltiverò ancora perché è veramente bello e da seccare il peperoncino poi va va benissimo specialmente per fare l'olio piccante ecco qua abbiamo delle colorazioni stupende questi frutti qua e come vedete siamo in ottobre inoltrato come massima abbiamo 16-17 gradi come minima abbiamo circa 6 gradi di notte eppure chinense sta benissimo qui abbiamo un'altra chinense anche questa a parte che adesso gli ho dovuto dare acqua perché stava un po' male poi ho avuto un piccolo problema tecnico al mio vaso di Utah però per essere una chinense sta bene questa è una annum sta benissimo anche questa qui abbiamo un'altra chinense che è quasi alta come me sta benissimo sta facendo maturare gli ultimi frutti è una kabaka roxa è stupenda fantastica buonissima qui ne abbiamo una ma guardate è alta come me anzi addirittura è forse un centimetro più alta di me questa 1,80 chinense anche questa guardate sta benissimo sta benissimo eppure abbiamo delle temperature quasi proibitive per i peperoncini questa anche sta benissimo anche questa è una chinense mentre che abbiamo un gatto abbiamo altre chinense che non stanno molto bene come potete vedere qui le foglie sono molto più ingiallite un po' bruciacchiate qui si vede chiaramente che sono ingiallite qua la pianta sta sentendo il freddo e quindi sta risocchiando tutta la linfa verso la radice se la tiene giù nel suo magazzino per passare l'inverno e far sopravvivere la parte centrale la parte centrale del fusto e la parte centrale della radice che va giù il fittone quella è la parte vitale della pianta se quella sopravvive se il fittone sopravvive la pianta in primavera si riprenderà se quella parte centrale invece muore la pianta è spacciata quindi per non morire la pianta cosa fa? sente che sta arrivando l'autunno sente che sta arrivando l'inverno più che l'autunno e quindi prende tutta la linfa e se la tiene giù tutta la linfa tutta la clorofilla e quindi le foglie ingialliscono poi piano piano le perderà e questo è il ciclo delle piante di qualsiasi pianta che non sia sempre verde perché alcune piante rimangono verdi ancora e altre invece ingialliscono subito o perlomeno prima delle addi di queste se non c'è un perché perché una pianta forse questa è un po' più esposta al vento o è un po' più debole di suo e niente la pianta ha deciso di di andare tra virgolette in letargo altre non l'hanno ancora deciso ma lo decideranno breve noi attendiamo e prossimamente dovrò fare un po' di ordine buttare via quelle quelle che ormai sono spacciate che ho deciso di non tenere quelle che deciderò di tenerle invece farò vedrò di fare una piccola potatura giusto per equilibrare quello che è paccore dici chioma e dopo di che vedrò valuterò quale tenere cercare di tenere di fargli passare l'inverno di svernare si dice e quali no poi eventualmente farò anche un video dedicato a questo così vedremo insieme come si fa a svernare una pianta questo è un abanero siamo a metà ottobre e ho ancora un abanero in fase di maturazione ne ho altri ma questo è quello più grosso e arriverà ce la farà a maturare molto probabilmente fine ottobre inizio novembre raccoglierò il mio ultimo abanero maturo e per essere in Svizzera con queste temperature qui è veramente un'ottima un'ottima cosa ecco vi saluto vi lascio con la visione di questa pianta che è stupenda fantastica questa è una frutescens e l'anno prossimo la coltiverò ancora perché veramente è stupenda forse questo è l'unico caso in cui ancora non ho assaggiato i frutti non so se sono buoni o no ma è talmente bella che me la coltiverò lo stesso saluti piccanti